Ciao, buongiorno a tutti, eccoci qua, finalmente posso ridire due punti vendita, abbiamo riaperto ieri con grande soddisfazione, ciao ragazze che siamo noi lo scampolo di Antonioli, come sapete quello che ci era successo circa due mesi fa, dimenticato tutto, ok ragazze, dimenticato tutto, siamo sopravvissuti, siamo sopravvissuti anche perché giustamente la forza, l'unione fa la forza, allora siamo qua ragazze, chi siamo noi lo scampolo di Antonioli, due punti vendita, come ripeto lo possiamo ridire, uno a Rovigo in Corso del Popolo 421, non sono ancora abituata, 421 vicino alla Farma Azzura che è un negozio di animali, i nostri animali sono un bel punto di riferimento in fondo al Corso del Popolo, chiamateci che io vi dirò ulteriori informazioni, anche perché voglio essere veloci oggi perché le cose sono tante, lo scampolo di Antonioli, qua siamo a Este, provincia di Padova, qua il nostro numero, cosa serve il nostro numero? Il nostro numero serve perché tutte le cose che adesso vi farò vedere, sono numerate, non sono prezzi, sono numerate, costano poco, vedo se riesco anche a dirvi qualche prezzo perché ho visto che voi fate più facilmente lo scrissotte, ordinati il capo ed è più veloce la spedizione, allora i nostri capi a maggior parte sono tutti in fibra abbastanza naturale, 99,9% perché qualche volta prendo qualcosa che non è fibra naturale perché magari mi piace la forma, mi piace il colore, però ho la tendenza di prendere cose naturali in maniera che anche voi avete un capo bello in fibra che in questo periodo c'è tanto caldo e la fibra sintetica come voi sapete è un po' fastidiosa, allora vanno le ciance, sigla! Ah perché non voglio dimenticare di lasciarla, prima di tutto guardate questa camicia, questa camicia tutta piena di volai frangente, frangettosa, bellissima, è un pezzo unico, costa poco poco poco, chiamatemi perché veste dalla S alla XL, veste tantissimo perché è una forma un po' over. Iniziamo, le nostre camicie a farfalla, queste sono delle camicie che sono state gettonatissime, delle camicie in sete di scosa, ecco perché vi dicevo fibra naturalissima, sono delle camicie che vestono molto, hanno come voi vedete la forma della manica, perciò non siete spoglie dai lati e allo stesso tempo hanno l'effetto farfalla, io la chiamo camicia farfalla, questa io spero che si veda bene, è un color Tiffany, è molto, è lo stesso colore della rosa che di solito gli accessori si notano meglio come colori perché essendo fibre, queste sono fibre naturali e si fa fatica a distinguere proprio dalla realtà al video, comunque voi chiamatemi che io vi saprò dire di più tutto quello che voi volete sapere perché voglio essere veloce perché le cose sono tante e voglio proporvele tutte. Questa è la proposta numero 80, come vi ho già detto è una camicia che veste tantissimo, è una camicia in sete viscosa fibra naturalissima, questa è stata scontata a 30 Euro, costava 49-30 Euro, c'è in diversi colori, poi vi faccio vedere tutti gli outfit che ho proposto, ho abbinato con questo pantalone stupendo, ecco questo è un pantalone in viscosa rigenerata, è una viscosa molto particolare perché è una viscosa tecnica, non è la viscosa naturale, è un pantalone che veste dalla 42 alla 54 perché all'elastico sopra va giù a palazzo, però come vedete è una forma molto svasata, perciò quando voi l'avete addosso vi sembrerà di avere una donna ed è freschissima. Io ho preparato questo outfit, guardate che meraviglia, la collana abbinatissima, abbiamo ancora qualche evento perché non sono finiti, c'è tutta settembre, spendiamo poco e abbiamo un outfit stupendo. La camicina 30 Euro, numero 80, il pantalone 29, numero 81. Affrettatevi perché non sono capi, non ne ho più di uno, perciò a chi interessa conviene mandarmi un messaggio subito su Whatsapp perché se lo mandate su Facebook su YouTube non lo vedremo mai. Allora, un'altra camicina stupenda, qua ieri è venuto qualcuno, mi ha spostato le cose, come vedo, vabbè non importa, non ho più gli abbinamenti, non importa. Un'altra camicina, numero 82, questa è una camicina, la famosa camicia con il bavero dietro, questa è una pura viscosa, un cotone leggerissimo, un fiocco di cotone, una viscosa, una fibra naturalissima. In fibra naturale perché è un fiocco di cotone, effetto viscosa perché è tutta cascante. Allora, questa è la proposta numero 82, 29 Euro. Ragazzi, è meravigliosa, è un camicino stupendo, stupendo, stupendo. Io farei l'outfit con questo pantalone che mi sono dimenticata di innumerarli. Niente paura perché, ecco, questo è il solito, il pantalone è uguale a quello che ho appena proposto, quello con la fantasia color Tiffany, questa è la variante di colore, fondo beige, fiore biscotto e una punta anche di nero. Facciamo questo outfit, bellissimo, questo è un pantalone molto morbido e veste tutte perché, come ripeto, veste dalla 42 alla 52. Se invece abbiamo un evento che non possiamo andare col camicino di fiocco di cotone o di viscosa perché ci sembra di essere un po' troppo anonime e voilà il camicino in viscosa. A farfalla, viscosa e seta, quei toni sempre del beige, la nostra collana con il punto luce dorato che è stupenda, anche questa veste tantissimo. Siamo fluttuanti, siamo fresche e allo stesso tempo eleganti. Questa è la proposta numero 83 e il pantalone con le cammelie beige. 83 bis, bravo camera. Per le amanti del rosa, guardate che topino ragazzi, questo è un topino in paillette, giottonatissimi, la scorsa settimana li avevo presi, non sono riuscita, la scorsa settimana per agosto perché come voi sapete siamo stati chiusi, chiusi per modo di dire, però non importa, il negozio era chiuso. Io farei questo outfit, abbiamo sempre bisogno di… Posso mettere via? Ok. Allora, abbiamo detto topino numero 84 e pantalone numero 85, se vogliamo fare per un evento un po' particolare. Vogliamo invece qualcosa di un po' più strong, un po' più elegante, però allo stesso tempo non troppo. Il nostro camicino sempre con il bavero numero 86, la nostra colana abbinatissima, oppure vogliamo qualcosa di più corto, il nostro topino numero 87 in pura viscosa. Questo è un outfit su rosa stupendo. C'è anche l'ultimo camicino, l'ultima canottina a ruota intera. Adesso ve la faccio vedere, anche questa gettonatissima perché sta bene a tutte. Guardate che meraviglia. Forse questo è dietro, è la proposta numero 88. Vorrei sapere chi ieri è venuto a mettermi le mani qua, non importa. Ecco qua, numero 88, la canottina in seta e viscosa e 85, il pantalone sempre in furolino. Poi verde, verde salvia, verde militare, gettonatissimo l'estate ed inverno che è un colore che va bene per sempre. Il nostro pantalone in seta e viscosa. Fantasia optical, che qua vi ricordavate che avevamo anche i vestiti, proposta numero 90. Questa è sempre un pantalone che veste. Io ho fatto l'outfit con il camicino sempre a bavero perché, guardate ragazze, si è anche cambiato un po' il tempo, però il caldo persisterà ancora fino a novembre come tutti gli anni. Fa fatica arrivare ma quando è arrivato sta talmente bene con noi che non se ne vuole andare. Camicino con il bavero, verde salvia, il nostro pantalone con i toni del verde, del marrone, del beige, la nostra collana abbinatissima. Anche questo è un outfit stupendo. Se invece vogliamo sempre qualcosa che ci copra le braccia perché abbiamo un evento, sempre la nostra camicina verde salvia a farfalla. La nostra collana particolarissima in legno. Anche qua facciamo un outfit stupendo. La proposta numero 91 e 90 ha sempre il pantalone a fantasia. Cotone, cotone di battista, battista di cotone. È un cotone talmente leggero che quando lo indossiamo non si sentirà di averlo. Allora, questo pantalone è un pantalone molto leggero. Hanno fatto sotto la culottina sempre il battista di cotone perché così non è trasparente ed è super super fresco con tutta questa fantasia di Vigli, bellissima, abbinatissima sempre al nostro camicino con il bavero color corallo. Guardate che meraviglia. Ditemi se queste sono cose che fanno voglia. 93 il camicino, sempre con il bavero. 92 è il pantalone battista di cotone. La collana a ciuffetti in caucciù che non vi sembrerà di averla addosso. Stupenda. Un altro outfit stupendo, un altro pantalone sempre con i fiori, sempre il pantalone di discosa con i toni dell'azzurro polvere. Guardate che meraviglia sto outfit. Guardate che stupendo, che delicato. La nostra camicina color vaniglia, sempre con il bavero e la nostra collana, guardate che meraviglia, tutta petalosa che richiama la forma dei fiori. La proposta numero 95 il camicino di vaniglia e 94 i pantaloni con i toni dell'azzurro carta da zucchero. Anche qua abbiamo un evento, non vogliamo uscire con le maniche e senza maniche, abbiamo sempre il camicino color burro. La nostra collana, camera se vuoi avvicinarsi a questa collana meravigliosa, i fili oro, guardate che meraviglia. Ecco, il camicino proposta numero 96 e 94 sempre il pantalone. Un'altra fantasia particolarissima, anche questa l'avevo presa per presentarla, ma è venuta la nostra amica Chiara. Ciao Chiara, l'hai vista e se l'hai provato e ha detto mio. Questo è un pantalone fantasia tipo Versace, guardate che meraviglia. C'è il maculato sotto, i suoi riccioli particolari che come voi sapete, lui piace fare tanti riccioli. 97 la proposta del pantalone, sempre in pallina, abbinatissima con il nostro camicino, sempre con il bavero proposta numero 98. Io ho abbinato la collana mezzo oro e mezzo nero in pastigliette di legno, anche questo è una cosa veloce, siamo freschi, spendiamo poco e siamo super super vestiti, possiamo andare dove vogliamo. 98 la proposta del camicino e 97 la proposta del pantalone. Vogliamo qualcosa di più sportivo, camicino in puro lino, svasato, anche questo è un camicino che veste tantissimo perché lui si allarga indipendentemente dalla forma della persona perché è svasato in puro lino. La proposta numero 99 con la collana mezzo argento e mezzo oro, per staccare un attimo, anche questo e facciamo sempre un altro bel completo, 99 il camicino, 97 sempre il pantalone nel fantasia versante. I nostri pantaloni parreo, questa è una donna Panta, guardate che meraviglia, nei toni del bordeaux perché come voi sapete sono i colori un po' più tonali, in cotone vela, il cotone vela è un cotone molto 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 leggero che quando lo avete addosso non ve lo sentirete. La proposta numero 100 io l'abbinerei con il camicino in sete viscosa, camicino proposta numero 101, anche qua abbiamo un evento, siamo vestite abbastanza elegante, sgrammatizziamo l'elegante anche perché dopo sono capiche e li possiamo mettere anche dopo. Questo è un camicino con il taglio all'americana perché è il taglio un po' svasato, vedete, con la collana rossa in caociù, ecco qua 101 il camicino e 100 è il pantalone. Questo pantalone con la facca c'è nero, bianco e blu. Pantaloncini corti, non mi sono dimenticata dei sortini gettonatissimi, non pensavo che andassero così tanto. Questo è un color beige, un color sabbia, la proposta è numero 103, abbinatissimo con la nostra camicina e il battista di cotone. Dobbiamo uscire, abbiamo né caldo né freddo, però non vogliamo andare via senza maniche, il camicino che non lo sentirete neanche, è molto molto leggero. Fai vedere se ce la fai il tessuto, è un tessuto molto 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 leggero. La fantasia maculata proposta numero 102, anche qua abbinatissima la collana. Puro cotone, puro, puro cotone, battista di puro cotone. 102 il camicino e 103 lo sciortino color sabbia. Restiamo sempre sulla manica leggermente a tre quarti, però come ripeto questi sono gli ultimi arrivi, sono dei camicini, guardate che meraviglia, arriveranno anche altri colori perché penso che arrivi anche il bordeaux, il beige, il bianco, ho preso il bianco e il nero intanto. Sono camicini tipo pitore, sono molto svasati, non sono cortissimi perché arrivano, ma la lunghezza del bacino sono abbastanza lunghezzi. Io li abbinerei sempre con lo sciortino bianco. Allora, qua abbiamo abbinato anche la collana, 104 il camicino e 105 lo sciortino bianco. Per chi non amasse il nero vicino al viso, niente paura, mettiamo il bianco e lo sciortino lo giriamo in nero. 111 lo sciortino e 109 il sì, e il camicino in battista di cotone. Vedete com'è fatto, ha la manica a tre quarti, questo, ricordatevi che queste forme li possiamo mettere con le spalle giù oppure li tiriamo su qua indipendentemente come vogliamo esibirci. 111 il pantaloncino e 109 il camicino. La collana con i soggetti immaculati. Un altro sciortino gettonatissimo nei toni del Bordeaux con la camicia immaculata e a fiori. Sciortino e camicia sembribattista di cotone. Sì, guardate che meraviglia, anche questo è un obbligo stupendo. 106 il camicino e 107 il numero, scusami, 107 il numero del sciortino. La camicia viene 29 euro, il sciortino viene 29, 25 euro vi posso fare, ve lo sciortino. Un altro pantalone che questa è sempre la fantasia perché ho voluto tenere per il camicino beige e qua abbiamo una collana un po' più elegante, la collana con la camellia, scusami cameraman, che volevo metterla bene perché mi si è girata, la collana con la camellia di Chanel, eccola qua, nei toni del beige, qua manca il corpo della persona e giustamente tende a girarsi, è bellissima, nei toni del beige, 112 il camicino e 110 il pantalone. Anche qua facciamo un outfit stupendo e possiamo andare a qualsiasi cerimonia, sono capi che spendiamo pochissimo, 29 il pantalone e 30 euro il camicino, tanto per farvi capire i prezzi. Un altro camicino svasato il pololino nei toni del sabbia, la colana che ci sta benissimo, è dorata, è leggera, leggera, scusate, 113 è il camicino, io l'abbinerei con la fantasia nuova del pantalone, queste sono tutte fantasie nuove, 114 è la proposta del pantalone con questa fantasia tipo che è quella fantasia francese, possiamo fare qualcosa di più sportivo col camicino in purolino, oppure abbiamo una serata, vogliamo restare con l'elegante e lo sportivo, camicia bordeaux in battista di cotone e sotto mettiamo il topino in paillette, sono dei topini che vestono tanto perché sono davanti di paillette e dietro di rasetto elasticizzato, poi ve lo faccio vedere meglio. Allora questa è la proposta numero 115 del camicino, 115 bis è il topino, 114 pantaloni sette di scusa, stupendo. Un'altra fantasia gettonatissima, la fantasia con i toni del beige del marrone che forse, no, avevo proposto il verde, scusami perché qua mi si è spostato tutto, il marrone cioccolato come voi sapete è un colore che sta bene a tutte e è sempre un colore che non ha stagione. Qua abbiamo il topino in ruota in terra, in sette di scusa con il coprispalla, coprispalla che veste tantissimo fino alla 52, poi ragazze non spostatevi perché abbiamo anche un carellino piccolo di taglie over, 116 è il completino, il twist sette, il sette di scusa, 147 è il pantalone, quei toni del beige e del marrone, anche qua possiamo andare dove vogliamo, 116 il twist sette e 117 il pantalone. Un altro outfit stupendo, sempre il camicino con il babero in blu perché sono camicini che sono stati gettonatissimi, li ho presi un po' di tutti i colori, con il pantalone e il pantalì a tua jolie, 119, nei toni del beige e del blu perché sono colori che stanno benissimo qua per questo periodo che è un periodo dopo, tanti dicono che dopo il 15 l'è stata finita ma secondo me è appena iniziata. Le giornate si sono accorciate molto? Le giornate si sono accorciate perché effettivamente alle 8 e mezza di sera è già buio però farà abbastanza imbrunire. Per chi amasse il blu vicino al viso, topino in seta e viscosa, vedete quanto ampio è questo topino? Oppure mettiamo, se non vogliamo essere così spoglie per qualsiasi evento, mettiamo il camicino sempre 121 a farfalla, qui toni del blu, 119 il pantalone, 120 è il topino e 121 il camicino a farfalla. Le nostre famose camicie a farfalla fantasia, guardate queste collanne che meravigliose, abbinatissime, immaculato è una fantasia optical, queste camicie scusami camera, io le abbinerei con il nostro pantalone a palazzo in seta e viscosa, sta bene su tutte e due, 123 il bianco e nero, 122 il maculato e 124 il pantalone in seta e viscosa, pantalone a palazzo, dettonatissimi anche questi. Oppure la nostra camicia con la fantasia di Parigi, anche questa è una camicia molto molto bella, è rimasta l'ultima, eccola qua, questa non l'ho numerata, 124 bis, mettiamo la camicia e 124 il pantalone, stupendo anche questo outfit. Un altro completo particolarissimo, il nostro pantalone con la patta davanti in nero, 128, abbinatissimo con la camicia in battista di cotone, anche qua facciamo un outfit stupendo, la camicia 130 e 128 il pantalone in battista di cotone. Poi questo pantalone lo possiamo abbinare con il nostro camicino 129, il camicino corto, guardate che meraviglia, è svasato, più lungo dietro più corto davanti con questa stupenda collana. Poi giustamente dobbiamo uscire e alla sera come voi vedete per il momento c'è bisogno di qualcosa, ho trovato anche la giacca del pantalone a patta. Mettiamo sotto la nostra giacca, sopra scusate, la nostra giacca con, ecco qua, questo è un outfit stupendo, camicia 129, 131 la giacca con, la giacca è una giacca un po' strana, ha la manica a pipistrello, ha questo un croce un po' diagonale che richiama l'effetto del pantalone e siamo vestiti che possiamo andare dove vogliamo, questo è un completo che lo portiamo tutto l'autunno, rosso, pantaloni con il ghepardo in rosso, bellissimi, sapete che meraviglia, c'è anche in nero, poi ve li faccio vedere, io li abbinerei, pantalone 134 con il ghepardo in rosso, lo abbinerei con il camicino a scatolina, camicino a scatolina numero 132, anche questo un camicino che veste perché va giù di spalle, 132 il camicino, oppure vogliamo essere un po' più soft, la nostra sempre camicia farfalla, numero 133, 39 il pantalone in sette viscose scontantissimo e 30 euro il camicino, 29 invece euro la camicia a scatolina rossa. Ecco ragazzi, adesso vi voglio far vedere qualcosa di over, per le nostre amiche un po' più morbide, questi pantaloni arrivano fino a 150 di giro ditta, 150 che è difficilissimo, io l'ho abbinata con la nostra camicina, questo bel pantalone l'ho abbinato con la nostra camicina a scatolina con l'incrocio dietro, guardate che meraviglia, ieri sera è venuta la nostra amica Michela, lo aveva con i toni del rosso e stava bellissimo perché lei è una ragazza mora, di carnagione nera di capelli, era bellissima. Allora 134 è il camicino, la proposta del camicino e 135 la proposta del pantalone, tutto fibra naturale, viscosa e sete viscosa, 135 la proposta, questo pantalone costa 29 euro e 30 euro costa il camicino incrociato dietro, scontatissimo. C'è anche nei toni del nero, però qua ho messo la camicina con il babero dietro, beige e nero, guardate che meraviglia, anche questo 150 di tiro bacino, perciò giro fianchi arriveremo a 170 abbondante, 137 la proposta del pantalone e 136 la proposta della canottina con il babero dietro, stupenda, l'albero della vita ragazze, chi non ama l'albero della vita, la canotta, perché qualche cliente mi chiede la canotta un po' over, ecco questa è una canotta che veste anche perché ho bel gesti, tutta tempestata di strasse, la proposta numero 138, io l'abbinerei con il pantalone a cargo a palazzo, 138 la canottina e 139 il pantalone a palazzo, anche questo ragazzi arriva fino a 150 abbondante di giro vita, perciò qua vestiamo tutte, è un tessuto cotone a vela, perciò voi sapete che cotone a vela è prestissimo, ecco qua, 19 euro la canottina, 29 euro il pantalone, questo pantalone c'è anche in blu, io ho qua abbinato la camicina, scusate, la t-shirtina con la scritta maculata, guardate che meraviglia, puro cotone, anche questa è una magliettina over, abbinatissima con il nostro pantalone a palazzo, con i tasconi laterali, pantalone con i tasconi cargo, questi sono taglie che vestono fino alla 54 abbondante ragazze, voi ditemi le vostre misure, la proposta è 141 la t-shirt e 140 il pantalone, voi ditemi le vostre misure e io vi dirò esattamente tutto quello che volete sapere, poi 144 il pantalone c'è anche color biscotto, color sabbia, biscotto più che sabbia, sempre a cargo, anche questo veste tantissimo, proposta numero 144, abbinatissimo con questa t-shirt, guardate che meraviglia questa t-shirt, allora hai palloncini con il filo, bellissima, dietro, scusami, 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 la proposta è numero 142, dietro a questa svasatura, vedete che ha questo volant un po' particolare, ecco questa veste il filo alla 56 abbondante e anche il pantalone perché veste tantissimo, proposta numero 142, 144 il pantalone, abbiamo un evento, vogliamo essere un po' più siccose, però il pantalone lo abbiamo, non vogliamo prenderci un altro pantalone, possiamo mettere sopra questa camicia con questa finta canotta sotto, questa è una camicia stupenda, vedete? Applicato c'è sotto la canotta, perciò la possiamo lasciare aperta, anche questa è una taglia over vesti fino alla 58, con il nostro pantalone possiamo andare benissimo all'evento, siamo eleganti però allo stesso tempo non abbiamo capi che costano tantissimo, qua possiamo mettere anche il pantalone nero, sempre il pantalone con le tasche a cargo, 143 è il camicino e 145 è il pantalone con le tasche a cargo, se invece non amiamo più di tanto il maculato e volatti anche il lebrato, eccolo qua, beice nero, raffinatissimo, sempre con la collana, hai visto la collana che richiama? Mamma che bella, è leggera anche? Sì, è molto leggera perché è l'utile che mettiamo i tessuti leggeri, poi abbiamo una collana che pesa un chilo, allora pantalone nero con i tasconi, con il nostro camicino con la finta canotta sotto, siamo elegantissimi, possiamo andare dove vogliamo, 146 è la camicia, 145 è il pantalone cargo, ricordo che queste sono misure over, e per finire questo outfit, gonna pantalone, questa sembra proprio una gonna, guardate che meraviglia che larghezza e che ampiezza, anche questa è una gonna che veste tantissimo, con la nostra camicia a camera non hai stirato? No, ho visto, perché il shop non c'è caldo, ecco il camera non ha stirato, scusatemi però prima di spedirlo vi darò una botta di ferro, prima di testa il camera non stava, ecco qua, questo è un camicino che veste tantissimo anche questo, guardate che meraviglia, anche questo veste fino da 56, il pantalone è molto ampio, è sempre una gonna, questo a chi non amasse le gonne tanto lunghe, i pantaloni tanto lunghi, allora adesso ti faccio vedere, scusami, ecco qua, vi faccio vedere quanto veste i pantaloni, pantalone, veste tantissimo, ed è fantastica, vedete che ampiezza? Qua arriviamo a 150, come giro vita, ecco qua, non ci piace questa collana, perché visto che ho l'altra con il cuore, ne approfitto, facciamo qualcosa di più strong, la collana col coricione e voi prendete quello che volete, stupendo che questo afflite, ecco ragazzi, qua dietro abbiamo altre cosine, però le presenteremo la prossima volta, perché se no sforiamo, il ventilatore non è in vendita, il ventilatore non è in vendita, però mi ha aiutato tanto, fai vedere anche questo outfit, se si può, la nostra ultima camicina con il punto luce maculata, guardate che meraviglia, pantaloncino t-shirtino, nero con la nostra collana, con le palline di legno ricoperte di seta pura e la nostra collana con le perle, ragazze, l'ultimo outfit, ragazze vi voglio bene, vi ringrazio, ho sbattuto le mani, spero di non averci fatto prendere paura, vi voglio bene, a presto, mi raccomando, chi più prende meno spende, perché giustamente vi farò degli sconti strepitosi, vi voglio bene, a presto, ciao! Scusate, abbiamo qua il titolare che ci ha tirato le orecchie, perché ha detto domani, perché non avevo capito se domani siamo stati talmente sommersi, per fortuna, sommersi di richieste di tessuti, ragazzi, che noi la scorsa settimana eravamo qua, in negozio, felicissimi, non mi sto lamentando, però come si suol dire? Eh, c'è stato anche tanto caldo, c'è stato tanto caldo, effettivamente, però che gioia, che gioia! Sì, anche perché, come dico sempre, i nostri migliori investimenti al cliente. Vi voglio bene, vi amiamo, vi raccomando, ragazze, prendete, grazie, vi voglio bene, ciao a tutte! Grazie! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!